Ciao Simona, ciao Riccardo, siamo in India, Incredible India, we are in the Monkey Temple, Ravinder, our driver, siamo in questo viaggio meraviglioso e stiamo vedendo delle cose magnifiche, siamo in Ajaipur, il nostro viaggio inizia da qui e poi proseguirà e siamo molto felici, il posto è magnifico, bellissimo e abbiamo voglia di vedere tante cose e Ravinder è fantastico e vogliamo dirvi una cosa, con Calca Travel è perfetto il viaggio e se il motto è no news, good news, ciao!